Una gara così 4.000 tra Vincenzo Presti se la ricorderanno per tanto tempo, una festa di colori e cori culminata con la vittoria finale per 1-0 sulla San Cataldese grazie al grand goal realizzato dal capitano Alessandro Bonafini e la conquista della vetta in condominio proprio con Iverde Amaranto. Un boato scattato al 36esimo della ripresa quando Bonafini l'ha messa proprio lì sul 7 dove nessuno può arrivare. Un tempo e mezzo di sofferenza fatto di inutili perdite di tempo da parte degli ospiti ed un assalto del Gela alla porta di Dolenti con quest'ultimo risultato il migliore in campo alla fine. Una festa di Giovano e festa è stata sin dall'inizio quando il pubblico gelese ha riempito sino all'inverosimile il comunale di Contrada Giardinelli quasi come una gara di Lega Pro. La San Cataldese dal canto suo non si è lasciata intimorire dal fattore campo ed è scesa sul terreno di gioco comunque concentrata e pronta a prendere almeno un punticino. Alla fine la tattica di spezzettare il gioco con cadute e scarpe slacciate non ha funzionato. Il Gela ha portato meritatamente a casa i tre punti dove avere più volte sfiorato il gol. Gara iniziata con 36 minuti di ritardo con gli ospiti giunti allo stadio pronti via. Il Gela ci prova da subito a mettere le cose in chiaro. Al tredicesimo Russo mette dentro un pallone invitante per Alma ma il tiro di quest'ultimo è respinto da Martorana. Al diciottesimo doppio Alma prima su calcio di punizione e poi al volo ma in entrambe le conclusioni Dolenti si supera. Gela che perde proprio il suo uomo migliore Giuliano Alma al ventottesimo per infortunio. Alla suo posto entra Floridia. Alla trentaquattresimo il Gela reclama un calcio di rigore per un sospetto tocco con le mani. Dopo cinque minuti di recupero l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Nella ripresa padroni di casa provano ancora insistentemente la via del gol ma senza la giusta lucidità a ridosso dell'aria della San Cataldese. Alla settimo ci prova allora Mincica su calcio di punizione ma Dolenti ancora una volta attento deviando la palla in calcio d'angolo. L'unica azione pericolosa per gli ospiti arriva al ventiseiesimo con Sciruffo che su calcio piazzato tenta di beffare Pandolfo. Poi sempre Gela. Al trentesimo Nassi tenta la sponda per Floridia ma il tiro di quest'ultimo è una telefonata per il sempre attento Dolenti. Alla trentaquattresimo cross di Mincica per Scerra che di testa tenta l'anticipo sul primo palo. Il gol sembra non volere arrivare mai. Quando tutto lascia presagire ad un pareggio ci pensa Bonafini a far esplodere il Presti con un gran gol dal limite dell'aria che fulmina Dolenti. 1-0 e la vetta del girone è realtà. La gara si conclude tra gli applausi dello stadio Vincenzo Presti. Ieri è apparso davvero l'arma in più per questo Gela che adesso si gode meritatamente i piani alti della classifica. Da sottolineare un eloquente striscione esposto da tifosi della secca d'Aldese solidali con i lavoratori dell'ENI. Grazie.